musica 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 i knockup devono veramente mettersi sotto se vogliono cercare di riportare lo sconto sul pareggio abbiamo a nord tanto shaft con Yamato Kremlin doppio demoni e doppio Ragnar e Uye Young poi a sud abbiamo i knockup con Ohio e Yamato triplo demoni Napoli Pumper 2 Shimakaze e Golia quindi doppio DD per loro quindi visto che hanno soltanto un bumper 2 come DD da smoke e uno shimakaze direi che i due Des Moines vanno ovviamente di una 9-10 a fare ad abbracciarsi alle isole e invece no va solo uno di Des Moines no l'altro anche sta girando nevermind ma mi sa che questo Des Moines qui sta andando da questa parte mentre Simoral sta andando nella posizione in F5 credo si Napoli che va ovviamente al flank su lino 2 e le due BB che rimarranno con la Yamato più centrale lo ha io più a supporto dei della linea 10 ciao Nicchio benvenuto allora tanto il Ragnar di Stress Possum è già su B praticamente mentre la Yamato di Pepe e Gaxando i due Des Moines e lo Yuiyang che ovviamente questo qua non era una papperella no no assolutamente no non era una papperella quella sono indirittura d'arrivo su A mentre il il Ragnar il Salem e Mosca della Cremlin sono andati direttamente su C con il Ragnar più verso il cap e i due cruiser più la volta c'è ovviamente più a ridosso della linea 9 e 10 potete vedere da dove parte il Ragnar per cappare non ha fretta perché ci sono due due Des Moines tra l'altro che lo stanno aspettando a braccia aperte e già con i pantaloni slacciati e anche il Ragnar di Z l'occhio perché è spottato il Ragnar quindi probabilmente a breve tira la radar se lo vorrà tirare se no disingaggerà tranquillamente mentre il Goliadino K addirittura l'hanno spostato qua su linea 9 e 10 quindi penso che abbiano intenzione di counterare un eventuale push su questa linea prende già la prima botte il Ragnar c'è già un pochettino più defilato ecco che è partita la paperella dall'altro lato switchiamo proprio side velocissimamente è entrato il Vampire 2 in cap su C però non viene contestato da Zill perché ovviamente se dovessi mai aprire malauguratamente aprire il fuoco verrebbe maciullato dalla dalla coppia anzi da Golia più che dal dal De Moin visto che è già solo in esterna intanto qui i due De Moin sono già nel fumo tutti i due begli angolati via visto partire un radar da Vicky intanto che ha sfruttato il il ragra di stress possum ecco perché c'è anche già anche Simolal che li pronti infatti stavo dicendo è prontissimo a prenderlo mazzolate infatti appena messo il culo fuori dall'isola letteralmente il culo fuori dall'isola gli ha ha cominciato a spammarlo intro che perché sta pushando interno Simolal questa come mossa ci sta perché le due battleship non hanno il tiro su di lui è spottato dal radar il Ragnar di nuovo che ha 9 e 6 praticamente quindi deve scappare con un treno e si mette pure a sparare tra l'altro e anche perché è l'unico che può farlo quinto minuto di partita il Ragnar di si Ragnar per due di enter è già stato spottato non è riuscito a cappare la zona di C addirittura Mosca e Salem sono sulla stessa isola mentre il Kremlin pusha più esterno questa mossa non me l'aspettavo onestamente cioè mi aspettavo di più una una roba tipo magari Kremlin che pusha più interno e cerca di entrare dentro C di forza e il Salem e Mosca qua sulla linea 10 invece no hanno fatto letteralmente l'opposto di quello che mi aspettavo ed è questa ovviamente la cosa bella del Cozza ok non succede mai quello che ti aspetti intanto Xando prende una torpata dalla scimmakasa tutto tranne che ha aria fresca quella anche perché si è iniziando si è iniziando a prendere un po' di mazzate da quel Demoin è andato subito subitissimo a spot ed anzi è subitissimo è andato anche perché lo adesso si sta mettendo a spottare per il Ragnar di Zil che continua a spammarlo come se ci fossero domani e ricordiamoci che il Ragnar fa full pen sui sul Demoin perché buca 30 mm con i 152 mentre il Bampard entra rientrato sul Cap di C ma questa volta non c'è nessuno che lo può fermare ok ovviamente il Ragnar è impegnatissimo a spammare Simunal intanto ai minimi termini ormai probabilmente verrà smocato alla scimmakasa infatti sta facendo questo appunto però direi che ormai è troppo tardi perché ha 700 HP e i Ragnar non perdonano naturalmente quindi di nuovo prima kill dei degli shaft di nuovo un Demoin che muore per primo probabilmente pure lo stesso di prima no prima era Kamchatka forse infatti no Simunal era dall'altra parte perché viene spottato il il 1x2 dal Ragnar e per il momento sta avendola meglio il di svedese i diritti di pane europea non mi piace proprio dato che è uno di svedese intanto l'Oai è già praticamente a mezza vita occhio perché la Kremlin sta facettando un Brozzet non indifferente infatti si è preso una bella legnata dalla dall'Oai adesso è pure in range delle secondarie quindi sicuramente gli arriveranno a molti più danni rispetto a prima anche con gli incendi occhio perché guardate dove è arrivato Vic tra l'altro guardate dove è arrivato praticamente ormai nel negli scarichi del del Ragnar di Zil e semmai dovesse spuntare dall'isola sono veramente dolori per lui non è stato spottato al radar del Mosca però tra un po' mi sa che ce l'ha sul fianco il Mosca ed è una bella mossa di di Franky in questa qui ecco perché la Kremlin sta andando giù mentre non sta andando giù sulla l'Oai questo potrebbe essere il primo errore che vedo fare gli shaft quattro partite praticamente questa è la quinta questa è la sesta perché la quinta l'abbiamo vista ieri pochi torp pochi torp no non dovrebbe prenderseli per pochissimo proprio però l'Oai sta andando giù che si stava reccando adesso però sta per andare giù Kremlin dovrebbe essere ancora safe in questo momento mentre occhio perché il Mosca è stato visto dal Des Moines e stanno entrando stanno cominciando ad entrare cittadelle tra l'altro e tra l'altro sbaglia tantissimo perché stanno facendo stanno andando in retromarcia e ovviamente in retro c'è anche il Demo in Dv che lo prende in crossfire quindi mi sa che andrà giù veramente molto velocemente Mothful ma molto molto velocemente sta pure arrivando alla botta di Vice Admiral mentre intanto verte a 20.000 HP contro i 6.000 di Silver Blade lo ha io intanto adesso sono di nuovo tornati i due Ragnar a spammare il Demo in Dvick che sta per fare la stessa fine del suo occupamento di squadra da Simolal che è stato farmato veramente senza moltissima pietà dai due dei due Ragnar prima dovrebbe essere riuscito ad andare on spotted quindi direi che non farà la stessa fine almeno non adesso in questo momento vantaggio no capa praticamente perché la Kremlin è morta praticamente adesso è andato on spotted ma è stato spottato proprio in questo esattissimo momento dal radar del del De Moines e ha abbastanza poche capita nemmeno esatto esatto non è durato proprio giusto un trinato del De Moines direi primo errore degli shaft in questo torneo che finora ho fatto partite sempre quasi sempre perfette e adesso stanno arrancando leggermente da Vick è spottato dal radar del De Moines di Kimi Lele e dovrebbero cominciare adesso a spammarlo due ma c'è solo un Ragnar che ha a fuoco su di lui viene pure preso malissimo e adesso il vantaggio ormai è sui 180 punti per i per i per i no cap ribaltamento di fronte proprio gigantesco dalla prima partita alla alla seconda adesso non so cosa non so veramente cosa potranno fare gli shaft per cercare di riportarla in carreggiata questa partita sicuramente sicuramente devono cercare di mandarlo do yu e yang a attorpare fino alla morte quella di Yamato quindi devono assolutamente provare a lutar giù qualcosa infatti va giù il Ragnar quindi tripla kill per i per i no cap che ormai hanno preso il largo adesso stanno pushando anche sulla linea 9-10 quindi e alli shaft manca anche una battleship quindi non hanno più moltissima potenza di fuoco mentre zil 2 è andato di prepotenza dentro b ma sta venendo farmato proprio brutalmente da prima a casa e Yamato the moine vampire vediamo che addirittura scusate che addirittura riesce a salvarsi a 3800 hp a questo giro mentre il Ragnar era ancora spottato e si è addirittura spiaggiato riuscirà il Ragnar il Vampire 2 tutto raggiù direi di no 420 hp occhio perché sta Yamato sta pushando in un cross stop veramente veramente poco invidiabile viene giustitato la Yamato che giustamente ha deciso di sparare prima di morire anche perché questo è un bellissimo cross storm bruttissimo per gli shaft vediamo quanti torpelli si mangia forse zero addirittura bellissimo questo questo dodge la Yamato mi sa che li mangia infatti è così mentre adesso il il Saran di Flo sta facendo la stessa identica fine del del Moskva solo che a differenza sua questa volta non ha molte alternative da considerare anche perché davanti è un Ohio e dietro un Golia quindi però finisce la finisce prima la partita quindi pareggio dei no cap bravissimi 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 no cap che portano il risultato sul pareggio contro di shaft quindi se andrà la terza mappa saremo andati comunque alla terza mappa ma andremo poi successivamente alla quarta adesso siamo su trap sicuramente infatti così